che vuole fare ancora chiarezza sulla morte di Bergamini, perché la procura di Castrovilla sta portando a termine le indagini sul caso Bergamini che stiamo seguendo da vicino, da molto tempo. Vediamo, e poi ci ritroviamo puntuali, edizione delle 18.30. L'hanno ucciso in tre. Le parole di Domizio Bergamini, padre di Dennis, raccontano il sogno ricorrente di un uomo che ha vissuto 22 anni immerso nella ricerca della verità, ad ogni costo. Un sogno. Ci sono però degli elementi che fanno pensare, come le due ombre al Cinema Garden verso le quali si dirige Dennis prima di scomparire quel 18 novembre del 1989. C'è sempre qualcuno che va a prendere qualcuno per poi fare quello che secondo me hanno fatto. Però suona strano che siano andati via con quei due lì e poi dopo due ore l'abbiamo trovato in macchina con Isabella. Anche qui c'è molto scollegamento. Isabella è la già ex fidanzata che è in auto con Dennis lungo il percorso che lo conduce alla statale 106 Ionica, al luogo in cui verrà ritrovato il corpo. C'è una testimonianza di suicidio sostenuta dalla donna da sempre ma che contrasta con la perizia consegnata da Iris di Messina alla procura di Castrovillari. Dennis era già morto prima dell'impatto con il tir. C'è un'altra perizia medico-legale che risale addirittura all'epoca dei fatti. Escludeva il trascinamento per 59 metri. Evidenziava una ferita di 25 centimetri a destra. Qui i termini diventano freddamente scientifici ma lasciano intendere una evirazione. La causa della morte veniva fatta risalire all'emoragia iperacuta connessa alla lesione pressoché totale dell'iliaca destra. Le dichiarazioni di coloro che hanno visto il cadavere quasi intatto, a parte la ferita, e non invece distrutto, come venne riferito alla famiglia, riportano un piccolo livido sotto la tempia sinistra. Dalla testa fino alla fine del torace il ragazzo non presentava nessun segno, tranne che appena un segnino che era qui sopra dalla parte sinistra. Nasce così una possibile ricostruzione che non pretende di essere l'unica. Una persona potrebbe aver esercitato una pressione con uno strumento vicino alla tempia sinistra e un'altra potrebbe aver inferto una ferita d'arma da taglio sul lato destro del bacino. Perché? Chi è al posto delle ombre? Qualcuno che lo voleva punire per qualche motivo? Ci sono indizi, non prove. Nel registro degli indagati però potrebbero presto comparire nomi, mille, le figure attorno alla vicenda. Per quanto mi riguarda, all'avvocato gliel'ho detto, sembrano che ci siano 30 persone che abbiano fatto ognuno il proprio compitino. Dall'infermiere che bruciò incomprensibilmente i vestiti al brigadiere Barbuscio che compilò un verbale colmo di incongruenze arrivando all'autista del camion, Raffaele Pisano, creduto morto per anni e invece vivo. Assolto due volte dall'accusa di omicidio colposo. Chi ha ucciso Dennis? La procura non assicura affatto che si possa dare una risposta, ma il padre di Dennis ne ha già trovata una. In sogno furono in tre. Per Sky Sport 24, Silvia Vallini.